cosa ci sarà mai in questo pacco? ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti e a tutte tutte ciambellini ciambellini e ciambelline mie mie come state? come state? come state? spero tutto 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 allora questo video sarà un altro video di unboxing 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 e fortunatamente sono davvero molto 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 contenta e emozionata in questo periodo sto facendo un sacco un sacco di collaborazioni tra vecchie e nuove vecchie conoscenze che si ripresentano come il video precedente di Hey Happiness questa è la volta di Daniel Wellington Daniel Wellington Daniel Wellington mi hanno chiesto di indossare un look estivo perchè diciamo che ogni presentazione di un nuovo gioiello ogni volta che c'è un nuovo lancio ti consiglio ti consigliano di indossare un outfit e visto che questo è il lancio summer però non è niente di di nuovo non ci sono orologi nuovi non ci sono gioiellini nuovi ma soltanto delle promozioni estive più il mio codice sconto e mi hanno chiesto di indossare nel video un outfit molto estivo e io al mio outfit estivo è una tuttina di Shane è una tuttina di Shane è questa qua è una tuttina curta color rosa antico salmone e questa qua l'ho acquistata proprio agli inizi quando non collaboravo ancora con Shane e ho voluto molto carina con i volant qua e ho pensato che lei fosse molto molto adatta e molto molto estiva e quindi ho ingestato questa e sto registrando sempre di mattina perché fortunatamente in queste mattine sono sola non c'è nessuno in casa non ci sono i miei genitori non c'è mio fratello mio fratello la mattina non c'è mai perché sta al bar ma mio padre solitamente sta sempre qua quindi ha fatto 2-3 giorni al lavoro e io ho potuto registrare di mattina in santa pace mi sono fatta tutti i miei servizi ho ancora qualcosina da fare però eccomi qua poi dopo continuo a fare i miei servizi ma al momento registro questo fantastico video e insieme al look estivo ho abbinato anche un bel make up estivo ho usato la mia palette preferitissima di NYX la ultimate palette di NYX e ha dei colori spettacolari mi sono truccata di prima mattina anche se non sono abituata tutta sudata fa sempre caldissimo però mi piace il look come è venuto un bel look fresco estivo ho usato ho usato un po' di rosso brillantinato al centro poi ho usato come colore di transizione ho usato un pesca un colore salmone qui e poi all'esterno e all'interno dell'occhio alla fine all'interno e all'esterno della fine del mio occhio ho usato un fucsia bellissimo e qui all'interno della nostra gris ho messo un bel giallo un poco scimerino ma giusto poco 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 e quindi quando alle ciance ciance alle pante come dico sempre io andiamo a spacchettare questi questi gioiellini li ho scelti io sono una mia scelta ho scelto potevo scegliere un orologio e due accessori io ho scelto un orologio un bracciale un anello se non mi sbaglio non voglio sbagliare allora cosa c'è di nuovo come offerta summer sul sul sito di tunnel wellington uno sconto del 20% che offrono loro su qualsiasi prodotto voi vogliate scegliere su una vostra spesa più il mio codice sconto che faccio sempre apparire qui tutto in grassetto nina make up nina make up nina make up nina make up e tutto attaccato che è del 15% mi stavo dimenticando quant'era il mio sconto perché 13% 15% 20% mi stavo un pochettino dimenticando perché poi dico tutto a memoria però voi non vi preoccupate io vi lascio sia il link di tunnel wellington e tutte le spiegazioni in description sotto nel video perché perché io sono molto smemorina e mi confondo facilmente però il mio codice sconto nina make up è del 15% quindi vi consiglio anche a voi di non lasciarvi scappare l'offerta che in pratica voi risparmiate applicando al coupon il mio codice sconto del 15% più il loro sconto del 20% avrete quest'estate uno sconto del 35% che non è male su una spesa bella importante di daniel wellington però i gioielli sono una garanzia e voi lo sapete apriamo sto cercando di fare il meno rumore possibile ecco qua come al solito la scatola si presenta in questo modo all'interno e qui ci sono tutti 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 i pezzi tutti i gioiellini che io ho scelto messi in modo molto 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 accurato ma è un modo davvero accurato molto sistemato imballato perfettamente è uno scatolo fantastico voglio iniziare dal piccolo poi facciamo medio e poi grande i pecc sono sempre favolosi sempre con questo colore eccezionale blu notte perché all'inizio io lo vedevo nero nero opaco ma paragonato alla capsula del microfono e al mio blu jedi che è nero questo è assolutamente blu notte sono diventata pure tartonica non lo sono mai stata però un po' blu blu tutto blu nero blu 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 andiamo ad aprire cosa c'è? l'anello che scelto io? io e il mio compagno abbiamo scelto insieme cosa prendere allora io l'ho preso 56 che è un 17 e mezzo dovrebbe essere e dovrebbe andare qui perché il quello della Pandora è però è sottile, non è come questo guardate quanto è bello guardate, guardate e ha la scritta qui Daniel Wellington bello in argento, color argento qui è 56 e mi va pure qua quello della Pandora allora posso metterlo sia sul pollice e posso metterlo ovviamente non sulla mano sinistra ma sulla mano destra posso metterlo sull'anulare medio e indice non va va piccolo va stritto ora vi faccio vedere lo metto anche sopra all'anulare da quest'altro lato però vedete qui va benissimo metto la scritta girata da Daniel Wellington guardate troppo 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 bello anche l'altro dovevo prenderlo secondo me 58 io poi ci ho pensato tra me e me però già vi avevo inviato l'ordine ho detto se questo qua è sottile è 56 dovevo prendere il 58 questo perché è molto spesso però mi piace lo stesso posso metterlo qui e posso metterlo sul pollice dopo mi spezzavo unghia e posso metterlo sul pollice anche sul pollice mi piace guardate bello 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 poi di qua cioè se lo metto sul pollice di qua penso di metterlo da quest'altro lato sul pollice a sinistra perché di qua ho Pandora il Braille e qui metto quello di Hey Happiness e quindi dopo faccio una mano proprio tipo cazzottiera che non mi conviene troppi troppi anelli su una sola mano poi non mi piacciono anche se io sono amante degli anelli e mi riempirei tutto il 10 le dita però poi fa un pochettino troppo kitsch se io mi metto tanti anelli su tutte le mani fa troppo kitsch possiamo l'anello anzi no me lo tengo e lo metto lo metto lo metto lo metto lo metto qui ok me lo tengo lo metto qui sulla mano destra passiamo al medio quello era il piccolo il pack piccolo questo è il pack medio dovrebbe essere bracciale io adoro davvero adoro tutti i prodotti tutti i gioiellini di daniel wellington chi non li adora penso un po' tutti sono costosi sì però ne vale davvero la pena il pack il pack è sempre lo stesso ovviamente il contenuto cambia vediamo vediamo cosa ha scelto la vostra Nina insieme al suo compagno spero di non aver preso anche lui troppo piccolo è proprio abbinato all'anello tanto poi questo vedete si apre e si modella per il polso ho preso la S perché è un polso molto piccolo vediamo è un bracciale ecco qua infatti va va benissimo ho messo la scritta storta aspettate ecco qua va messo così vedete e poi si stringe è molto molto sottile molto molto elegante qui la scritta Daniel Wellington è sempre in argento vedete mamma mia troppo troppo carino molto elegante sta benissimo sta benissimo proprio al braccio duro se avete un polso piccolo come il mio vi consiglio S è come misura perché c'è SM visto che questi qua sono modellabili potete aprire lo stringero regolarlo come più vi piace se avete il polso piccolino prendete una S l'anello se lo volete mettere qua e diciamo avete le mie stesse misure io qui ho un 12 ed è strano che va qui perché l'anellino di la mia fedina di sagabù che avevo era 12 e anche il pandora è 12 qui da quest'altro lato qui non so perché sia 17 e mezzo cioè praticamente Daniel Wellington dell'anulare porta 17 e mezzo 56 non so perché mi tengo entrambi gli accessori assolutamente qui c'è il pezzo forte il pezzo più grande qui c'è il nostro orologio sempre scelto da me e dal mio compagno si vede che è il pack dell'orologio quanto è bello faccio vedere subito non vi preoccupate c'è la carta sopra la pellicola allora è molto molto come modellino è molto molto simile alla prima collaborazione che ho fatto con loro che era nero e qui grigio tutto ceramica mentre questo qui non è in ceramica dovrebbe essere tutto acciaio e color argento invece di portare i numerini oppure le stanghette i numeri romani o le stanghette per calcolare l'orario diciamo l'orologio all'interno ha dei brillantini brillantini super sfaroschini 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 con la scritta tv Daniel Wellington Daniel Wellington Daniel Wellington ma è bellissimo lo indossiamo subito un lato poi anche l'altro ed è perfetto un pochettino un pochettino più largo ma è perfetto anche perché se si vuole le maglie se è troppo largo le maglie si possono far togliere anche da un calciolaio si possono far togliere la carta una a dieci dite la verità è fantastico è bellissimo da una a dieci centomila penso proprio che stasera indosserò stasera è venerdì oggi è venerdì ho dato il muso vicino al micro oggi è venerdì e penso proprio che indosserò l'anellino tutto 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 e anche la tuta che ho indosso allora l'anellino non costa tanto 35 il bracciale mi sembra 59 cosa del genere mentre l'orologio l'orologio è un pochettino costoso costa 250 250 euro quindi magari se proprio ne siete innamorate se proprio cercate un orologio buono di ottima qualità che fa una bella la sua porca figura sopra il braccio dovete dire la verità molto elegante molto fine compratelo adesso perché avrete il 35% di sconto il 20% che da Daniel Wellington l'azienda il 15% che è il mio sconto il mio codice sconto Nina Makeup Nina Makeup tutto in grassetto e tutto attaccato non vi preoccupate ripeto se avete qualche dubbio c'è scritto tutto in description nell'info box molto belli io li adoro amori mie 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 io vi saluto io vi saluto vi ringrazio per essere stati qui con me a guardare questo video a rilassarvi e a interessarvi del contenuto vi ringrazio sempre dell'amore dell'affetto e delle bellissime parole che mi scrivete che mi scrivete sempre in direct su instagram e qui su youtube spero che il video vi sia piaciuto che i prodotti di Daniel Wellington i gioiellini fantastici vi siano piaciuti e che presto utilizzereite il mio codice sconto se vi va e se avete intenzione di fare un piccolo acquisto o un bel regalo importante per voi stesse o per qualcuno a voi molto molto caro io vi do la mia buona 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 buonanotte buonanotte sogni d'oro sogni d'oro sogni d'oro sogni d'oro good night good night good night dormite bene dormite bene dormite bene dormite bene ci vediamo al prossimo video amori miei un big kiss tanti 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 big kiss tanti tanti buonanotte ciambellini alla fragola 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 e al lambone 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 buonanotte amori miei buonanotte calare frappi ragazzi ben uffi dan